15 e 16 novembre due giorni da sogno a vetralla firmati merinda spose atelier l'atelier merinda spose ha il piacere di invitarti al trunk show le stagioni dell'amore 2015 un evento unico dedicato alle spose dove poter indossare l'abito dei propri sogni scegliendo tra le migliori firme della collezione 2015 e gli abiti sartoriali di merinda spose atelier solo nei due giorni dell'evento il privilegio di provare da acquistare modelli unici a prezzi unici avrai a disposizione personale altamente qualificato e sarte premier di merinda spose per consulenze personalizzate prenota la tua prova abito vai su www.merindaspose.it